Chiuso per le esigenze legate al Covid-19, il circuito ciclistico Marconi è stato riaperto dall'amministrazione comunale di Fano. In questi mesi, intanto, sono state apportate alcune migliorie all'impianto sportivo più utilizzato dai cittadini. Ma come spiega l'assessore allo sport, Caterina Delbianco, sono cambiati gli orari e alcune regole, sempre per esigenze legate alle norme anticontagio. Oggi riapre il circuito Marconi, quindi si possono riprendere le attività di ciclismo, di podismo, di pattinaggio. Ci sono alcune novità, quindi ci tenevamo a ricordare che questo circuito nasce come impianto per il ciclismo, per la società ciclistica Alma Juventus, che fa attività giovanile con i ragazzi. Ci sono dei giorni in cui è previsto solo l'accesso per i ciclisti, quindi il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30, e il sabato dalle 17.00 alle 19.00 solo ciclismo e ci troveranno quindi gli ingressi sorvegliati e non si entra. Per il resto vale sempre la convivenza civile rispettando le regole. Qui è presente anche la società che gestisce per il comune la manutenzione ordinaria e sono state apportate migliorie. Naturalmente l'impianto è molto grande e sarà sempre nostra premura tenerlo al meglio, anche perché è stato recentemente riasfaltato con un fondo del CONI, quindi attualmente l'immagine è veramente funzionale e speriamo di ritrovarlo pieno di atleti, pieno di persone. I frequentatori del circuito dovranno poi controllare la cartellonistica per seguire e rispettare il giusto senso di marcia. Nelle entrate dagli appositi cartelli viene segnalata la direzione sia per i mezzi con ruote, quindi cicli e pattini, che per i podisti, quindi ricordiamo a tutti gli utenti di utilizzare scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica. Quali interventi avete eseguito? Abbiamo mantenuto il livello dell'erba a condizioni accettabili di altezza e sono stati ripristinati tutti i 66 pali con i lampioni che erano ammalorati. Infine, alcune nuove regole riguardano gli accessi. Le norme Convid non prevedono, naturalmente, assembramento, questo è chiaro, non prevedono anche la compresenza di più sport. Attualmente alla pista di atletica e al baseball entrano solo i soci e i tesserati, quindi un'accortezza in più nelle prenotazioni e si deve evitare, quindi la promiscuità è anche non organizzata. Tutto è molto più preciso, quindi chiediamo veramente il rispetto delle regole, almeno per questi mesi estivi.